Io ho incominciato l'8 settembre a sapere un po' dove c'erano i compagni intanto da avvisarli che li andavano già a restare di nuovo. Allora, ad esempio, Felice da Pugianello mi ha mandato qualcuno a dire vai dal Feoviani a dire che siamo già nella lista dove ci vengono a restare ancora. E poi i guidoni, quello di Scampate, tutti più o meno quelli lì. Io intanto andavo a avvisare quelli lì, poi dopo quelli lì si sono trovati tutti. Sono trovati tutti a Scampate là da Chico, da Catellano. Ci vuole fare questa riunione? Diciamo che io poi a questa riunione ho fatto parte sì e no, perché sono andata là, che mi hanno chiamato là, però dopo mi hanno mandato anche... Cioè loro hanno fatto la riunione per designare a ognuno il proprio posto, perché erano poi diventati tutti dei, diciamo, dei dirigenti. Mi hanno mandato qui in centro a fare le spese, a comprare gli occhiali, i beretti, tante cose per camuffarsi un po', per potersi poi spostare di là. Vabbè che si spostavano di cera, ma anche... E dopo ognuno è stato designato il proprio posto. E poi di lì, diciamo che qualcuno ha incominciato ad andare in montagna, ma in montagna ancora non c'era niente di pronto. Andavamo dalle famiglie che erano, già delle famiglie che sapevamo che erano degli antifascisti, che erano contro la guerra. Andavamo da queste famiglie, prima di tutto c'erano già dei militari che erano riusciti a scappare e gli indirizzavamo ad andare in montagna. E poi si raccoglieva questa roba che io, ad esempio, i vestiti, i viveri, io li portavo a Roncolo e li portavo da Toregiani, che poi lui, di lì, partivano e andavano in montagna. E più o meno, nell'inverno, abbiamo fatto sempre queste cose. Cioè, raccoglievamo, preparavamo la gente, preparavamo le donne per avere delle case di latitanza da poter prendere per una notte qualcuno che non sapeva dove andare prima di mandarlo in montagna. Cioè, abbiamo fatto più o meno sempre queste cose. Qualcuno già era organizzato, portavamo degli ordini. Qualcuna era organizzata anche per fare altre cose. Ma io, come lavoro militare, più o meno, lo facevo in quel modo lì, solo per il sostegno dei ragazzi che c'era in montagna e di quelli che si dovevano nascondere e tutte queste cose qui. La propaganda, che distribuevamo volantini di queste cose che delle volte clandestinamente li andavamo a mettere di sera da una parte e dall'altra. Poi, pian piano, arrivò che c'erano già gli scioperi, erano già incominciati gli scioperi contro la guerra, eccetera, e abbiamo preparato, ci siamo preparati per lo sciopero del primo marzo. Grazie. Grazie.